Saluto da parte dell'amministrazione comunale di Splinbergo e il ringraziamento al Comune di Pordenone e al Comitato 10 febbraio per questa opportunità. La collaborazione nella pubblicazione di un volume che in particolare potrà essere fruito dalle scuole e dai nostri giovani rispetto alla giornata del ricordo e alla tematica relativa a quello che è stato l'esodo degli istriani, dei dalmati, dei nostri connazionali dalle proprie terre e la grande atrocità delle foibe. La metafora che viene spesso utilizzata e alla quale ci appoggiamo è quella della pagina di storia strappata. Una metafora evidentemente significativa ed eloquente quando si fa riferimento alla brutale assenza di una parte del nostro passato, una parte importante, una parte che appunto va ricordata con gli obiettivi sempre presenti e proprio rivolte al futuro delle nostre generazioni future, la verità, la conoscenza e la cultura. Il nostro passato e la sua conoscenza sono il nostro futuro.